Nel cuore pulsante di La Promessa, si sta per snodare un nuovo enigma, avvolto in un alone di mistero. Attraverso gli intricati sentieri di questa telenovela, sveleremo un'avventura, che trasporterà gli spettatori in una danza emozionante. Le nebbie dell'incertezza si addensano intorno a Quan, noto come il barone, figura enigmatica e ambivalente, che incatena l'attenzione di tutti. Il sipario si apre sulla scena dove Quan, come un'ombra, si dissolve nell'oscurità, sfumando in un vortice di interrogativi. Dove è finito il barone? Una domanda che danza sulle labbra, di chiunque si trovi incastonato in questo dramma. La Marchesa, figura di potere e fascino, sente il suo cuore aggrovigliarsi nell'ansia. La preoccupazione per la scomparsa del barone preoccuperà molto la Marchesa, che darà immediatamente inizio alle ricerche nella speranza di poterlo rivedere sano e salvo. Poco prima di sparire l'uomo avrà provato ad abusare di Teresa, una delle ancelle che vivono a palazzo, ma sarà sorpreso da Pia. Da quel momento del barone si perderanno le tracce. Il barone è svanito, come se la realtà stessa, avesse inghiottito la sua esistenza. Il suo passo risuona nei corridoi del palazzo, ma lui è un eco senza corpo, un enigma senza risposta. La preoccupazione, affonda le radici profonde nella Marchesa, spingendola a intraprendere un viaggio tortuoso, alla ricerca di quel mistero sfuggente. La tensione cresce, un'ombra minacciosa si diffonde nell'aria. Il barone, spietato e oscuro, era noto per la sua sete di potere, ma ora sembra aver perso la presa, sulla sua stessa esistenza. Si snoda un passato oscuro, uno scontro di volontà e desideri che si fondono, in una danza di conseguenze. Eppure, tra le ombre dell'ignoto, emerge un frammento di verità. Il barone qua ha osato oltrepassare ogni confine, tentando di strappare la dignità di Teresa, un'anima vulnerabile, nel cuore del palazzo. Ma in questa tela intricata, la giustizia assume un volto inatteso. Pia, silenziosa e forte, si erge come custode della giustizia, svelando un destino sorprendente. La ragnatela dei destini, si intreccia ancora, portando il barone qua, a una fine inattesa. La vettura precipita, il suo destino segnato dal filo sottile delle circostanze. La notizia riecheggia, come un lamento nelle mura del palazzo, il barone è morto. La polizia indaga, scrutando i dettagli e cercando di svelare un mistero sepolto, sotto il velo dell'apparenza. La marchesa, cuore spezzato e pensieri travagliati, osserva il mondo sgretolarsi intorno a lei. La scomparsa del barone, è un pugnale nella sua anima, un ricordo che si insinua nei suoi sogni, e risveglia paure supite. Le ombre si fanno più fitte, i sospetti si insinuano come serpenti velenosi. Tuttavia, come in un dramma ben orchestrato, la verità si svela, in una danza di rivelazioni. La morte del barone non è stata un caso, ma un atto di vendetta. Pia emerge dall'oscurità, portando con sé una storia di dolore e sofferenza. Una storia che le ha intrecciato il cuore e l'anima al barone stesso. E non è sola. Giana, Teresa e Maria, si trovano ora incatenate in questa rete di segreti, ciascuna portando il suo peso di colpa, e desiderio di giustizia. I destini si incrociano, i cuori battono all'unisono nel palazzo che ospita desideri nascosti e passati oscuri. Gli eventi si dipanano, le maschere cadono, e l'intero universo di, la promessa è pronto a esplodere in una sinfonia di emozioni e svelamenti. Siamo pronti, a immergerci ancora più profondamente, a lasciare che questa storia, ci catturi, e ci trascini in un vortice di avventure, e rivelazioni. Siamo pronti a immergerci ancora più profondamente, a lasciare che questa storia ci catturi e ci trascini in un vortice di avventure e rivelazioni. Restate sintonizzati, iscrivendovi subito al canale, perché il destino ha ancora in serbo per noi una pioggia di emozioni. Grazie a tutti.